La crisi aguzza l'ingegno e il lavoro, se si vuole si può anche inventare. Lo ha fatto un giovane imprenditore di Corato che ha pensato bene di studiare come valorizzare i prodotti tipici del territorio. La gelatina che ha preparato è a base di vino, vitigno, autoctono, nero di Troia, tipico della zona, servita sui formaggi e la morte è sua. La gelatina di nero di Troia nasce dalla voglia di valorizzare ciò che la nostra terra ci offre, di valorizzare ciò che è tipico, ciò che è autoctono della Puglia. Infatti parliamo di un vitigno, il più antico di Puglia, il nero di Troia. Ecco perché valorizziamo questo vitigno, forse anche dimenticato nel tempo. Di solito è la marmellata che pure lui produce in maniera naturale a sposarsi con la ricotta e i formaggi. La gelatina al nero di Troia è un prodotto nuovo, ancora tutto da scoprire al sud, più utilizzata magari al nord e nei paesi freddi, considerato il tasso alcolico del vino con cui viene fatta. Ha la sua gradazione perché un nero di Troia, un vero nero di Troia dovrebbe avere 13 gradi e mezzo, 14 gradi e l'alcol si sente.